Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti, studiata da un camperista. Romano Caravans, strade di libertà. Un caloroso saluto da Barbara Chiappini che vi dà il benvenuto a questo primo appuntamento dell'anno di Camper Magazine. Seguitemi e vi guiderò alla scoperta di questo affascinante mondo del turismo in movimento. Italia in camper è la rubrica attraverso la quale vi portiamo alla scoperta del nostro bel paese, naturalmente in camper. Vediamo insieme qual è la metà di oggi. Questa settimana per il nostro consueto appuntamento dell'Italia in camper andremo a conoscere un posto davvero affascinante e non solo per chi ama sciare. Stiamo parlando di Latouille, una delle località turistiche più rinomate della Val d'Aosta, che oggi insieme alla Rosière nella valle francese dell'Isère, forma uno dei comprensori sciistici più vasti delle Alpi. È infatti dotato di una fitta rete di impianti di risalita che serve 135 chilometri di piste e solo 85 in Val d'Aosta. Quest'anno siamo stati particolarmente fortunati perché abbiamo avuto la neve già dall'inizio di dicembre con tanta neve e tanta gente. E poi quest'anno è avvenuta una grossa novità. Forse qualcuno ha cominciato a conoscere la nostra area camper. Infatti ci siamo trovati anche un po' spiazzati, ci siamo trovati con 540 camper la notte di Capodanno. Molto spettacolari le piste di fondo, alcune poste nella conca di Petosan in vista della catena del Monte Bianco. Latouille fu anche un importante posto di tappa sulle vie delle Galdie. Risalenti al periodo romano sono stati infatti rinvenuti bronzi, monete e oggetti votivi di uso quotidiano. In questa splendida località sono sicuramente da visitare la chiesa parrocchiale che è dedicata a San Nicola e di essa si trovano notizie già fin dall'anno 1113 ma la data di fondazione è controversa. Al suo fianco c'è un bel campanile databile attorno al XV secolo. Presso il lago del Vernei è frequentata ed apprezzata la riserva turistica regionale di Pesca mentre in territorio comunale si trova una zona di pesca no kill con il rilascio del pesce catturato in acque libere regolamentate secondo le leggi regionali. Insomma, trascorrere una vacanza latouille significa vivere le giornate intensamente tra una discesa libera e rilassarsi al sole per prendere una tintarella fuori stagione. Arca, lo stile italiano per viaggiare in camper. Una tradizione che continua nel tempo. Arca, un marchio, uno stile tutto italiano. Funzionalità e massimo comfort, elementi fondamentali per la casa laziale che continua una tradizione di successo, arricchendo di anno in anno il proprio catalogo con modelli sempre più attenti ai bisogni dei suoi clienti. Crediamo che dietro questa marca, che è storica, che ormai è presente sul mercato da oltre 40 anni, ci sia qualcosa più di un prodotto. Ci sia un pensiero, ci sia un'idea, ci sia un rapporto col cliente, ci sia quasi un legame affettivo. Quindi diciamo, al di là della tecnica, al di là dei contenuti che indubbiamente ci sono, c'è una tradizione, c'è un'innovazione. Ecco, questo ci piace portare per descrivere il nostro marchio, questa frase, tradizione e innovazione. Arca, per la coppia e per la famiglia, che desidera il meglio per sé e per i propri cari. L'M718GLM è il nuovo mansardato che arricchisce la già esclusiva gamma, presentando un modello dalla linea classica e dal contenuto innovativo. Un'eleganza sobria, che diciamo, utilizza sempre i colori e le immagini proprio interne dei prodotti Arca, ovviamente con il solito standard qualitativo, unito anche ad una componente tecnica importante in termini di chassis, in termini di dettagli. Il massimo per la famiglia, con ben cinque posti omologati e altrettanti per dormire, protetti da un doppio pavimento riscaldato su chassis Fiat Alco, che lo rende adatto ad ogni stagione e a qualsiasi clima. Il gavonaggio è interessante perché utilizziamo un allestimento su chassis Fiat con telaio Alco, quindi qua parliamo di una macchina che a livello di coibentazione è un doppio pianale. Dentro il doppio pianale del capetine vengono posizionati i serbatoi delle acque principali e delle acque grigie, in modo tale che il massimo del peso dell'acqua caricata a bordo è riportato nella parte centrale, baricentro basso, è abbinato alla performance dello chassis Alco, la gareggiata allargata, riusciamo a dare anche una performance su strada interessante perché il prodotto su strada è molto stabile. Con una lunghezza di circa 720 cm, con classica mansarda ben areata e molto luminosa grazie a finestre e oblò, è dotato di matrimoniale posteriore con grande garage, adatto a caricare anche uno scooter, sempre nel rispetto dei carichi consentiti. Un prodotto costruito per la famiglia, per l'utilizzo della famiglia, per venire incontro alle esigenze della famiglia. Ergonomia, design e caldi abbinamenti cromatici, caratterizzano gli interni dell'M718 GLM, rappresentato da una pianta con un'ottima abitabilità nella zona living, cucina longitudinale con piano cottura a quattro fuochi e forno a grill, con frigo e freezer. Lo sviluppo del prodotto, il progetto in generale a 360 gradi è sviluppato all'interno dell'azienda e quindi la voglia di poter utilizzare materiali nobili e di qualità ha proprio questo scopo perché vogliamo presentare al nostro pubblico, ai nostri clienti, un prodotto che sia performante e che dia la possibilità a tutti di fare delle belle vacanze in comodità e in qualità. Innovativo anche il vano toilette con comodo box doccia tondo, completamente ridisegnato. Pareti in alofiber, isolamento in styroform, climatizzatore di serie e luci LED a basso consumo per l'illuminazione contribuiscono a rendere sempre più efficaci e confortevoli le esigenze di una famiglia che viaggia in camper o meglio, in un camper Arca. Pochi secondi di pubblicità e poi ci ritroviamo di nuovo qui con Camper Magazine. Mi chiamo Sandra, lui è Maurizio, siamo marito e moglie. Oltre a questo siamo accomunati dal fatto di essere entrambi medici e di avere una passione veramente sfrenata per i viaggi. Viaggiamo da quando ci ricordiamo e da circa vent'anni usiamo il camper. Usiamo il camper perché è il mezzo che sicuramente permette di essere più autonomi. Abbiamo fatto dei viaggi normali come fanno tutti e pian piano ci siamo avventurati nel mondo. Il camper è il sistema migliore per visitare zone che molti possono considerare anche piuttosto lontane e difficoltose. Ed ora seguiamo una nuova puntata di Diari di Viaggio. Tutto è cominciato nel giugno 1997, quando finalmente sono riusciti a realizzare il loro sogno che hanno durato tutta una vita, girare il mondo. E così è stato, per sette lunghi anni hanno vagato senza sosta alla scoperta di nuovi orizzonti, attraversando tutti e cinque i continenti, utilizzando per i propri spostamenti un camper, protagonista su un camper.